Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 21 marzo 2018, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani nazionali e locali. Sulle pagine nazionali troveremo gli sviluppi di un'inchiesta, di una nuova grana per il colosso dei social Facebook con richieste di chiarimenti nei confronti del leader Mark Zuckerberg, ma troveremo anche vicende legate alla politica con prove di intesa e ulteriori schiarite sul fronte delle presidenze dei due rami del Parlamento. Poi le vicende locali, vedremo anche dei servizi realizzati dal Tg6 nel corso di questa ora che trascorreremo insieme. Iniziamo la nostra rassegna con le prime pagine dei quotidiani locali. L'edizione pescarese del centro, l'apertura ancora dedicata al delitto neri, impronte sull'auto di Alessandro. Saranno confrontate con quelle di chi frequentava il 28enne neri ucciso a Pescara. Sotto la testata le detrazioni sono del 50%, casa, lavori e acquisto, ecco gli sgravi fiscali previsti per il 2018. E poi ancora verso le regionali Pagano pronto a trattare con la lista civica di Gerosolimo. Scendiamo e abbiamo la fotonotizia. È morto Raul Verzella nel 1978 fondò i negozi Discover, una lunga carriera nel commercio fino alle vendite online. Di spalla la storia, la chef Aquilana Farinella, io e il mio maestro Marchesi. E poi in basso Ramazzotti e De Luigi, Pescara, la bella. I due attori a Pescara in questi giorni per girare un nuovo film. E poi ancora altri richiami di cronaca a Pescara, sia i mini negozi per il pesce sul lungo fiume. Il Consiglio Comunale ha dato via libera all'installazione sul lungo fiume di strutture per la vendita e il consumo sul posto del pesce. Previste anche aree dedicate alla marineria. Poi sempre a Pescara l'ex assessore scontro nel PD per il ritorno di Santa Venere. Il caso in Consiglio, molte a raffica con l'autovelox a manoppello. Poi sotto la fotonotizia lo stop del governo all'Abruzzo. Mazzocca l'ora della ritorsione. Fermeremo i rifiuti di Roma. E poi il gruppo De Cecco vola verso la quotazione a Piazza Affari. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Addio a Sudan, l'ultimo rinoceronte bianco. Vediamo l'edizione aquilana del centro. L'Aquila rischio neve, scuole chiuse. Decisione del Comune presa in testa con la protezione civile per evitare disagi. Anche perché le temperature come previsto si sono sensibilmente abbassate nelle ultime ore con anche delle nevicate, seppur non abbondanti. Poi ancora vediamo la fotonotizia. Esplosione in un garage ad Arischia. Tre persone ferite. Tragedia sfiorata. Quattro famiglie sgomberate. Ecco qui il luogo dell'esplosione ad Arischia. peraltro insomma il tutto sotto una nevicata. A Cerchio in Marsica due coltellate all'amante della moglie. Poi Carfour Sulmona rapina la verità dalle immagini delle telecamere. Poi l'Aquila Calcio. I tifosi vogliono una nuova società. Andiamo avanti e vediamo l'edizione terramana del centro. L'apertura. Il PM blackout. L'Enel non ha colpa. La procura di Teramo chiede di archiviare l'inchiesta sui danni della nevicata del 2017. E poi la fotonotizia torna all'incubo delle frane. Nuovi e casi in tre comuni. In questo caso vediamo la frana di Casale San Nicola, località di Isola del Gran Sasso. La cronaca. Giulianova. Lo stalker. La tua vita sarà un inferno. Anneretto. Cittadini uniti per solverviare il quartiere. Poi la politica. Elezioni a Teramo. D'Alberto lancia la candidatura a sindaco. Andiamo ora con l'edizione di Chieti del centro. Ospedale nel caos. Letti in corridoio. A Chieti tre reparti quasi al collasso nella notte. 25 ambulanze al pronto soccorso. La fotonotizia. I custodi dei semi tramandano i segreti del peperone che è l'oro rosso di Altino. Qui vediamo un'altra uno di questi custodi. Camillo D'Alonso. Uno dei cinque custodi dei semi del peperone dolce di Altino. La cronaca. Chieti ruba l'auto. Si schianta ma riesce a fuggire. Sempre a Chieti. Bellia condanna a 11 anni per bancarotta. L'ospedale di Vasto. Blitz in dialisi la finanza dal primario. Siamo ora alla prima pagina del messaggero Abruzzo. L'apertura data alla cronaca. Al delitto neri. Ale la verità tra le lamiere. I carminieri del Rissa hanno esaminato a lungo un'auto data alle fiamme e poi rottamata. Speciali indagini stabiliranno se è la stessa vettura che seguiva la Fiat 500 della vittima. E poi ancora sotto la testata vediamo tre richiami a Chieti. Crack della ditta. Luciano Bellia condannato a 11 anni. A Teramo infermieri bocciati al concorsone ma le risposte erano corrette. E poi per il calcio di serie B. Pescara Candeloro pronto ad affiancare Sebastiani. Il presidente del Francaville è uscito allo scoperto e intenzionato ad entrare in società anche acquisendo la maggioranza delle quote. Di spalla la montagna come risorsa dopo la grande crisi economica. Reportage, fotografie e video nel CSC per allievi del corso ambientale. E poi vediamo la foto notizia. La ASL fece un affare. La ASL è quella di Pescara da Mario sulla palazzina acquistata. E poi ancora inceneritore la regione furiosa rispediremo i rifiuti a Roma ma zocca attacca il governo. Non doveva impugnare il nostro piano. E poi in basso l'Aquila la battaglia contro i Suc. Avanti ancora siamo alla prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo che apre così il pastrocchio. Inizia a sbrogliarsi. Dalberto mette all'angolo gli sfidanti del centro-sinistra. Il centro-destra prende forma senza candidato. Poi sotto la testata cinque indagati. False assunzioni per ottenere la disoccupazione. Viabilità disastrata. Entroterra ostaggio delle frane. E poi la foto notizia. La sovrintendenza l'ha voluto coperto. Parliamo del teatro romano. In municipio primi passi verso il referendum. Di spalla sempre un argomento principale. Quello delle prossime comunali a Teramo. 70 nomi per sostenere la candidatura di Dalberto. Ma al voto andrà anche il comune di Silvi. Allora nasce la prima condizione di centro-destra per le elezioni. Poi ancora sotto la fotonotizia. Stalker settantenne incastrato dai video. Giulianova nelle telecamere la prova delle persecuzioni. Per il calcio di Serie C. Serie C che oggi è in campo per il turno infrasettimanale. Palladini prepara il blitz pomeridiano del diavolo in Sud Tirol. La partita si giocherà a Bolzano. Ore 16.30. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo su quelli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera che vedete alle mie spalle. Ora lo vedrete a tutto schermo. Questa è l'apertura. Doppia bufera su Facebook. L'Unione Europea e Londra convocano Zuckerberg. Nuovo crollo in borsa. Giù i social. La Casa Bianca interviene sui dati carpiti agli utenti. Tutelare il diritto alla privacy. E poi leggiamo sotto la testata. Fossati scopre un inedito Gaber e le donne. 15 anni dopo. Per la politica Berlusconi ritorna a Roma a trattare. Senato verso la presidenza a Forza Italia. E poi finanziamenti illeciti. Fondi della Libia fermato Sarkozy. E quindi ancora la fotonotizia. Ne parlava il centro nella prima pagina. La storia di Sudan. L'ultimo rinoceronte bianco è morto in Kenya. L'unico esemplare maschio della sua specie. Siamo ora sulla Repubblica. Vediamo il titolo d'apertura. In prima pagina. Berlusconi sì al governo col Movimento 5 Stelle. Svolta del leader di Forza Italia. Esecutivo di programma assieme alla Lega. Fico in pol per la Camera. Zingaretti. Il PD. Dialoghi con i grillini. Casaleggio. Partiti morti. La democrazia sul web. A proposito di web. Una foto di profilo di Mark Zuckerberg. Fondatore e amministratore delegato di Facebook. Dati rubati. Zuckerberg ora spieghi. I titoli social crollano. In basso la cronaca. Gravi altri due pompieri. Catania esplode casa. Tre vittime. Due erano vigili del fuoco. Intervenuti per la fuga di gas. Poi inchiesta sui femminicidi. Margherita salvata dal mio ex. Grazie al rifugio antiviolenza. Sotto protezione. 22 mila donne. E avanti con la stampa. Ecco l'apertura. Privacy violata. Processo a Facebook. Londra convoca Zuckerberg. Unione europea sospetta la frode. Parla Tajani. Rischi per la democrazia. L'America apre un in un'indagine per la cessione dei dati. Il titolo crolla e trascina Twitter e Snapchat. Webtax. Ecco il testo europeo. In basso. Vediamo appunto una foto proprio di Mark Zuckerberg. ancora più in basso. Troviamo la politica. Di Maio e Salvini cercano un premier. Si intensificano i contatti fra i partiti. I due leader pronti a individuare un nome di compromesso per Palazzo Chigi. Siamo al sole 24 ore. Anche in questo caso il caso Facebook dà il titolo d'apertura al quotidiano di economia. Leader nell'economia. Il caso Facebook travolge i social. Chiarezza su dati a uso politico. Agi come informazioni su elezioni del 4 marzo. Stati Uniti e Unione Europea sulla privacy. Dilaga lo scandalo dei profili rubati a Wall Street. Titoli a picco. Londra e Bruxelles vogliono interrogare Zuckerberg. E poi ancora di spalla sui dazi commerciali. Annuncio della Cina pronti a concessioni. Apertura agli Stati Uniti del premier Lee. In basso vediamo market abuse. Sanzioni bocciate. Si alla doppia punizione solo per le violazioni in campo IVA. Per la Corte Europea non cumulabili le misure penali e quelle amministrative. Siamo al fatto quotidiano. Rosatellum. Le elezioni non finiscono mai. Tre deputati non lo sono già più. Riconteggi e sentenze. Gli eletti appena programmati già cambiano. E poi sotto la testata. I satelliti. Le ONG si muovono appena partono. Gli scafisti. Le inchieste sulle rotte dei migranti dalla Libia fra servizi e polizia giudiziaria. E poi a centropagina. Ecco qui crollo in borsa. Intervista a Morozov con Facebook. Abbiamo venduto le nostre vite. E poi per la politica. Senato. Salvini ora è pronto ad accettare il nome di Berlusconi. Di Maio sceglie la Camera e l'Oda. Il Colle. Siamo al manifesto. Caso Facebook anche sulla prima pagina del manifesto. Le vite degli altri. Il mito di Facebook crolla insieme a Wall Street in fumo 36 miliardi. Lo scandalo Cambridge Analytica brucia la fiducia di milioni di utenti. Ombre su Trump, Brexit e persino il voto europeo del 2019. Londra convoca Zuckerberg. Washington e Bruxelles aprono una inchiesta. E poi taglio medio. Salvini e Di Maio si rifanno le camere. Accordo per le presidenze. Poi ancora milioni da Gheddafi. Fermato Sarkozy. Vediamo la prima pagina del messaggero. Facebook travolta travolta dallo scandalo. Inchiesta negli Stati Uniti per i dati sottratti. Zuckerberg convocato dal Parlamento UE e di Londra. Il titolo crolla ancora in borsa. Picco i colossi social. Il garante europeo accusa. Voto inquinato. Sotto la testata. La commedia Vincenzo Salemme. La mia sfida. Fare ancora ridere. Restando credibile. Per lo sport. Settimana azzurra. La nuova nazionale. All'esame Messi. Di Biagio prepara la rivoluzione. La fotonotizia. Eletto con i fondi di Gheddafi. La parabola di Sarkozy agli arresti. L'accusa dei magistrati. 50 milioni da Tripoli. La politica. Ma in Italia. L'offerta di Salvini a Berlusconi. Senato a Forza Italia. Ma il leader sono io. Vertice del centro-destra. Trattiamo uniti. Di Maio. A noi la camera. E poi in basso la sentenza del Tar Lazio. Dopo il taglio. La vittoria degli studenti artisti. Torna l'ora di strumento musicale. Il tempo che apre invece sulla vicenda Sarkozy. E lo faranno altri quotidiani che leggeremo. Ridi Susto Sarkozy. Fermato l'ex presidente francese che con la Merkel prendeva pubblicamente in giro Berlusconi. Tangenti da Gheddafi per il voto del 2007. Ora si capisce la fretta di andare a bombardare la Libia. Ambasciatore russo al tempo. La Francia ha destabilizzato il Mediterraneo. E poi questa foto. Tra virgolette foto d'epoca tra gli allora leader Berlusconi e Sarkozy. Com'è che non ridi più? Questa è la battuta che viene trasposta in maniera metaforica appunto dal tempo. In basso l'arcangelo Gabrielli vieta la preghiera agli agenti. Giallo sul lino a San Michele per la festa del corpo. La polizia. Tutto normale. E siamo su Libero. Un gran criminale. Questo è il titolo d'apertura. Sarkozy. Fermato perché sarebbe appunto un gran criminale. Ride bene chi non ride mai. L'uomo che sbertucciò Berlusconi sospettato di aver preso mazzette dalla Libia prima di scatenare la guerra contro Gheddafi per fregare l'Italia causando migliaia di morti. E poi ancora accordi di Palazzo. Salvinici e dal Cavalieri. Il Senato in cambio del centrodestra. E poi in basso commercialisti trasformati in 007 del fisco. L'Unione Europea vuole obbligare i professionisti a segnalare operazioni sospette. La verità è anche in questo caso l'apertura dedicata alla vicenda di Sarkozy. Sarkozy è arrestato per i soldi avuti grazie all'uomo di Prodi. Il marito della Bruni non ride più. I milioni di Gheddafi per l'elezione dell'ex presidente francese arrivano dal fondo gestito da Bashir che a San Marino guidava la fondazione dell'ex premier italiano. E poi la fotonotizia. Renzi insiste. Bosch in Rai e Lotti ai servizi. In taglio medio tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Aria d'intesa. Camera ai grillini. Senato a Forza Italia sarebbe la chiave per tentare un governo. E poi l'avvenire. Una terra assetata. Questa è l'apertura. L'allarme dell'ONU che lancia le città spugna come possibile soluzione al problema dell'acqua. Il forum mondiale in Brasile sul bene più prezioso che molti sprecano e che scatena conflitti. La via dell'impronta idrica. E poi la fotonotizia. Centropagina. Zuckerberg chiarisca. E ora Facebook trema. Caso dati rubati. Unione Europea e Stati Uniti chiedono risposte. Crollo in Borsa. Chiudiamo con la prima pagina del mattino. Tutti contro Mr. Facebook. Unione Europea e Londra convocano Zuckerberg. La Gcom accende un faro sul vuoto in Italia. Non si placa lo scandalo dei dati rubati per fini politici in Borsa. Cronano i titoli dei giganti social. E poi la cronaca sotto la testata. Pasquale l'addio sciocca la figlia. Amavo la mamma. Poi capirai. Il marito killer trovato suicida a pochi passi dalla scuola a Terzigno e a Catania. Fuga di gas. Esplode un palazzo. Morti da eroi. Due vigili del fuoco. I pompieri erano intervenuti dopo l'allarme in un auto lavaggio. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali. Siamo a pagina 2 del centro. Come risparmiare il 50% lavori e acquisto gli sconti sulla casa. Dai tetti, le grondaie e le porte blindate ai bagni nuovi, le caldaie e le finestre. Ecco il lungo elenco delle spese detraibili. Ecco qui questa ampia grafica con tutta una serie di spese che possono andare in detrazione. Poi l'altra opportunità scrive di spalla il centro. Sgravi anche per comprare un immobile ristrutturato. Ma il pagamento va fatto con il bonifico. Per avere i benefici occorre riportare causale, codici fiscali e partita IVA come nel facsimile che è stato pubblicato qui in basso. Andiamo a pagina 3. La De Cecco si prepara a sbarcare in Piazza Fari. Il gruppo alimentare di Fara San Martino avrebbe già scelto l'Advisor. La quotazione in borsa dopo l'estate. Valutazione tra 600 e 800 milioni. Di spalla la condanna Quotelatte l'Abruzzo dovrà sborsare 4 milioni. Poi in basso Pro Wine conferma per i vini abruzzesi 38 produttori a Düsseldorf in Germania. Di Campli. La Germania resta il nostro primo mercato in Europa. Proseguiamo e siamo alla pagina Abruzzo. Pagina 12. Pagano pronto a trattare con Gerosolimo verso il voto delle regionali. Così il centro-destra fa un invito esplicito alla lista civica Abruzzo Insieme che per il PD del dopo D'Alfonso vale la salvezza. E poi ancora in basso Sanità. Paolucci incassa il sì del Tarra. Autorizzazioni a nuovi studi medici. L'ordinanza smonta le accuse dei Cinque Stelle. Di spalla ancora la vicenda dei rifiuti. Sempre attualissima è la polemica di vampa. Piano regionale bocciato dal governo. La ritorsione di Mazzocca. Diremo stop ai rifiuti di Roma. Ieri ha parlato nuovamente il sottosegretario della Regione Abruzzo con delega all'Ambiente. Affiancato anche dalle associazioni di WWF e Lega Ambiente. Ascoltiamo allora Mario Mazzocca. Mazzocca, ieri ai nostri microfoni aveva parlato di fuoco amico. Oggi in conferenza stampa ha parlato del comune di Pescara. Ha un po' attaccato anche l'amministrazione Alessandrini. Perché? Ma io ho riportato i fatti. Ho detto che questo piano è stato concepito attraverso nove tavole di concertazioni, 44 assemblee pubbliche su tutto il territorio. C'è stato un periodo di pubblicazione nel piano tipico e poi un periodo di pubblicazione nell'Avassi in cui chiunque poteva elevare delle osservazioni, delle proposte, delle critiche, delle richieste di modifico e integrazione. Ciò non è avvenuto, almeno da parte del Comune Pescara. C'è stata l'evidenziazione di una supposta criticità in ordine alle distanze troppo amplificate per un emendamento che fu portato in commissione di certo non da me e che ho cercato in qualche modo di mediare in sede di Consiglio regionale. Abbiamo appurato come c'è stato un ricorso da parte del Comune Pescara l'8 di marzo, nominamente inviato anche a me, ma io non l'ho mai ricevuto perché è stata inviata una mail diversa da quella mia e che gentilmente mi ha concesso una giornata di sabato, tarda mattina di sabato, sindaco Alessandrini, che evidenziava queste cose che sarebbero comunque riconducibili in una soluzione tecnico-amministrativa anche abbastanza agevole. Il problema è che, almeno per le mie informazioni ministeriali, il Consiglio dei Ministri, che non era assolutamente unanime a sposare, to cure, le decisioni di funzionare il Ministero dell'Ambiente ha avuto ovviamente, nel momento in cui ha preso atto di questo ricorso, lo strumento per dire che a questo punto non lo dicono solo i funzionari del Ministero dell'Ambiente, lo dice anche la principale città d'Abruzzo per cui procediamo con l'impugnativa. Che cosa abbiamo portato in evidenza noi come Consiglio, come Comune di Pescara? Abbiamo portato in evidenza che la distanza degli impianti, dei centri antropizzati che si prevedeva di raddoppiare e l'abbiamo ritenuta incongrua, perché mal si lega con una situazione impiantistica esistente su cui noi come sistema pubblico, vediattiva, abbiamo fatto investimenti acquisendo questi impianti e avviandoci nel corso di metterli in funzione per l'uso pubblico. Quindi un problema esclusivamente di distanza. Mi sembra che invece la legge regionale abbia avuto censura di diverso tipo e quindi penso che dobbiamo guardare le cose nella loro esatta prospettiva. La cronaca nelle pagine di Pescara del centro trovate impronte sul 500 controlli sull'autobruciata, chiaramente il riferimento è al delitto neri, tracce nella macchina di Alessandro, parte il confronto con amici e conoscenti. Sul veicolo non sarebbero stati trovati né sangue né materiale, biologico, investigatori in obitorio per recuperare anche le impronte del 28enne assassinato. Poi per quanto riguarda domenica, ecco qui c'è il post della madre del giovane Alessandro, domenica una camminata in centro organizzata dalla famiglia, una camminata, una fiaccolata che inizierà alle ore 19 di domenica prossima per le vie del centro, in particolare Corso Umberto, Piazza Salotto, nave di Cascella e poi ancora Piazza Salotto. Una fiaccolata per la verità su chi ha ucciso il giovane Alessandro Neri. Poi ancora sempre la cronaca, addio a Verzella, fondatore di Discover. Il commerciante e regista avrebbe compiuto 71 anni a giorni, il primo negozio nel 1978 in Via Roma, oggi alle 15 i funerali. In Basso muore in ospedale, il PM dispone dell'autopsia. L'uomo 68 anni era stato ricoverato con forti dolori addominali, la famiglia ha presentato un esposto. Poi ancora sempre a Pescara, sì ai mini negozi sul lungo fiume per il consumo sul posto del pesce. Approvata la delibera che consente di installare strutture per lo street food e i mercatini a miglio zero, previste anche aree dedicate alla marineria Alessandrini, così cambierà la fruibilità delle banchine. Poi in Basso, tassa sui passi carrabili, aumenti del 40%, il centrodestra della provincia ha varato una stangata di Marco in comprensione dei miei tecnici. Avanti ancora, siamo alla politica, il ritorno di Santa Venere fa litigare la maggioranza, spunta un patto per affidare l'incarico di consigliere del sindaco all'ex assessore, ma esponenti del PD e delle civiche di centrosinistra sono pronti a dare battaglia. Di spalla, Cuzzi invita tutti i cittadini a prendere un caffè con lui, l'assessore dà il via agli incontri pubblici. Avanti ancora, chiuso il contenzioso con gli eredi, una sala dell'Aurum per le opere di Michetti. Sarà inaugurata prima dell'estate e conterrà tutte le sculture donate al comune. La figlia di Vicentino si è chiuso un periodo di carte bollate. Dico grazie a tutti. Poi l'iniziativa che leggiamo in taglio medio, uova dell'Agbe per la seconda casa, occorrono altri fondi per completare la struttura che potrà ospitare 11 famiglie. Il presidente Di Paolo Emilio, contiamo sul buon cuore dei pescaresi e dei tanti sostenitori. Avanti ancora, siamo a pagina 19. Rigopiano, i familiari incontrano di nuovo IPM. I parenti delle vittime chiedono spiegazioni sulla richiesta di proroga delle indagini. Siamo d'accordo solo se questo comporterà l'aumento del numero di indagati. E poi in basso, celebrità a confronto con Pomiglio, ospiti del Forum 2018, David Bosser, Beatrice Venezzi e Manar Hamad. Avanti ancora, siamo a pagina 20, la pagina dove leggiamo le vicende di Francavilla. L'assessore al commercio si dimette per il discount. La Ferri lascia l'incadigo e spiega i motivi in una lettera a Luciani, tra i proprietari dei terreni dove nascerà il market. Ci sono miei familiari. Poi in taglio medio, cittadini offesi dalle scelte di Luciani. Di Renzo attacca il sindaco autosospeso, assentarsi dall'incarico e una grave mancanza. Pagine di Montesilvano. Ecco qui l'apertura di pagina, erosione, barriere spostate a oltre 150 metri a largo. Proposta al comune di Padovano per i balneatori e di tocco per gli albergatori. Solo così è possibile il ripascimento della spiaggia specie in zona Stella Maris. Poi ancora, sempre a Montesilvano, tirocini pagati in azienda, selezionati 78 cittadini. Il comune di Montesilvano ha partecipato al bando regionale con il progetto Noi nuovi orientamenti per l'inclusione. Ora saranno individuate le ditte. Siamo in provincia di Pescara, sempre a Manoppello. Autovelox terribile, 770 mila euro di multe. Raffica di contravvenzioni in due mesi sulla Tiburtina. Un fornaio di Rosciano ha collezionato 40 verbali. Poi in taglio medio, a penne, stoppa, gli ambulatori di otorino e chirurgia. Mancano gli infermieri. La ASL comunica i giorni in cui non potranno essere garantiti i servizi. Proseguiamo. Siamo alle pagine di Chieti. In primo piano c'è l'emergenza in ospedale. Medicina nel caos. Pazienti in corridoio, reparti al collasso. Nella notte 25 ambulanze al pronto soccorso. Flacco. Presto 15 letti in più sul futuro del lobby. Allarme di spalla. Nessuna irregolarità per le nomine ASL. Assolti il manager è Di Pietro. E Paolucci ora attacca Febo. Avanti ancora. Sentenza sul crack. Bancarotta Sidermetalli. Bellia condannato a 11 anni sotto accusa per una distrazione di oltre 3 milioni. Pena due anni e sei mesi a Pipia. O anche l'acquisto di una villa da Sogno a Taormina al centro delle contestazioni. Ecco qui nel tondo. Luciano Bellia, l'imprenditore che appunto è stato condannato a 11 anni. In taglio medio. Abusi sui piccoli atleti. Allenatore a giudizio. Furgiuele rinviato a processo in aula tra sei mesi. Il giudice si riserva di decidere sulla scarcerazione. Avanti ancora. Siamo nel Chietino a Ortona. Dal borgo alla costa. Percorso a piedi tra erbacce e ostacoli. Gradini rotti all'esterno. Scalinata a pezzi nel tunnel. Viaggio del centro sulla stradina che porta al ciclo pedonale. A Fossacesia invece. Vandali in azione. A San Giovanni in Venere. Distrutto un muretto di cinta vicino all'Abbazia. Sul lungomare continuano i furti nelle auto. E ora siamo alle pagine di Teramo e provincia. Blackout da record per la neve. La procura chiede di archiviare per l'autorità giudiziaria nessuna responsabilità di Enel. Ma un evento atmosferico eccezionale. L'inchiesta era scattata dopo la denuncia di molti sindaci nel fascicolo. 150 parti offese. E poi in basso distacco di placenta. In autostrada mamma partorisce a San Benedetto. La giovane donna di Pineto ha dato alla luce un bel maschietto. E per la politica, sempre a Teramo, d'Alberto lancia la candidatura. L'ex PD correrà per diventare sindaco con due o più liste civiche. Qui siamo a Giulianova. La cronaca, le lettere minatorie dello stalker. La tua vita sarà un inferno. Perseguitata con quattro missive alla settimana dall'uomo bloccato armato sotto casa. Il commerciante settantenne resta ai domiciliari in attesa di una nuova richiesta dell'autorità giudiziaria. E poi siamo a Silvi. Manovre in vista delle prossime elezioni comunali. La Lega in campo con altri tre gruppi per le elezioni a Silvi. Coalizione con il Popolo della Famiglia, Uniti per Silvi e Movimento Idea. Progetto aperto ad altre forze. Avanti ancora. Torniamo a Giulianova, ma in questo caso per le vicende del Comune. Tefa, dal Comune, prima rata di 200 mila euro alla provincia. A giorni sarà saldata parte del debito di 900 mila euro per l'addizionale sulla tassa per i rifiuti. Mastromauro replica Dantelli. I soldi sono stanziati in bilancio. Pagheremo anche quello che resta. E poi, sempre a Giulianova, bilancio. Il PD conferma le sue richieste. L'Unione Comunale insiste su modifica della tassa di soggiorno e dei trazionitari. Ma resta poco tempo. Dunque, fibrillazione insieme all'amministrazione comunale di Giulianova. E qui siamo a Roseto. Lido, la lucciola ritarda il passaggio al Comune. Il sindaco incalza la regione. L'estate si avvicina. Non possiamo fare il bando per l'affidamento. Intanto ci sarà la pulizia straordinaria per le feste di Pasqua. E andiamo a chiudere con le pagine aquilane. Terrore ad Arischia. Esplode garage nel palazzo. Tre feriti in ospedale. La deflagrazione. Ieri pomeriggio nel laboratorio di una ditta di fuochi d'artificio. Qui vediamo alcuni scatti proprio dello stabile dove è avvenuta l'esplosione. E poi altre foto. Il tutto sotto una fitta nevicata. E poi ancora per la cronaca. Telefonate moleste. Donna condannata confermata in appello sei mesi inflitti dopo la denuncia per stalking del suo ex che affermò di essere stato pedinato. E poi ancora svegliati da botti a ripetizione. E qui torniamo alla vicenda della deflagrazione ad Arischia. Abbiamo pensato al terremoto. In basso il boss in incognito. I doni ai dipendenti. Avezzano il manager di Carlo al docureality. Nei panni di un esodato. Alla fine premia tre colleghi. E andiamo a chiudere con la pagina di Sulmona. E gli eventi per il bimillenario. Festa di compleanno in piazza Perovidio. Corona dall'oro sulla statua del poeta. E al Pacifico le letture dei versi. E la premiazione del concorso riservato alle scuole. Noi ci fermiamo. Andiamo ora in pubblicità. Prima però le previsioni del tempo. Dopodiché ci ritroveremo con la seconda parte di Mattino 6 sfogliando le pagine del messaggero e della città. Buongiorno di nuovo. Mattino 6 riprende con la seconda parte. Siamo sul messaggero Abruzzo. La battaglia per l'ambiente. A noi l'inceneritore. Allora Roma si tenga i suoi rifiuti. Il sottosegretario regionale furioso per la legge impugnata dal governo. Abruzzo non ha spazzatura che giustifichi un camino. E poi noi abbiamo ascoltato nel precedente servizio la replica del sindaco di Pescara Alessandrini. In questo caso leggiamo le parole dell'assessore Marcheggiani. Non c'è stato fuoco amico. Poi in basso Lolli verso il patto di fine legislatura. Lavoro sociale e salute. Le priorità nella prima riunione della maggioranza dopo l'elezione di D'Alfonso. Subito i temi e poi il rimpasto. L'altro nodo è il ritorno alle urne. Possibili elezioni a dicembre oppure a marzo. Pagine di Pescara. La cronaca. Il RIS esamina il cadavere di Alessandro. Prelevate impronte digitali del ragazzo assassinato. Saranno confrontate con quelle trovate nell'auto del cugino. Indagini scientifiche anche in due abitazioni utilizzate da Gaetano Lamaletto Junior prima della partenza per gli Stati Uniti. La mancata evidenza di tracce di sangue esposta all'attenzione sul traffico dei telefoni. Restano centrali le amicizie pericolose. Una ruota della Meriva rottamata sarà comparata con il calco delle orme presenti sulla scena del delitto. E poi ancora il punto fermo. Non è stata un'esecuzione. Tre elementi inducono gli investigatori a ipotizzare un incontro chiarificatore degenerato. Domenica fiaccolata per la vittima. In basso leggiamo vittime della mafia al liceo. C'è Giovanni Impastato al liceo scientifico Galilei. Avanti ancora. Siamo sempre a Pescara. Il palazzo uffici. Un affare per la ASL. L'ex manager da Mario si difende davanti al GIP. Merito un encomio. Dice lo stesso da Mario. In quattro rischiano il rinvio a giudizio per l'immobile pagato 900 mila euro. È rivenduto al triplo all'azienda sanitaria. Poi ancora Corso Vittorio. Procedono i lavori H. Mercoledì riapertura a doppio senso. Dita incrociate contro il maltempo. Via Lago di Scanno ripavimentate. Ponte del mare sotto manutenzione. In basso BCC di Cappelle. Borgia in corsa per la conferma alla presidenza. Il CdA uscente si ripresenta in blocco alle elezioni di aprile. Smentita l'ipotesi di una lista unica con gli oppositori. Avanti e siamo sempre a Pescara. Una città da film bella e moderna. Michela Ramazzotti, Pegasodoro 2014, Evocaegno Flaiano. Fabio De Luigi apprezza la cucina nella tentacolare Pescara. Madonnina, Lungomare, Centro Storico. Le location scelte per il set di Ti presento Sofia per la regia di Guido Chiesa. Cast e produzione ospitati dalla Fondazione Pescara Abruzzo per promuovere l'Abruzzo. In basso siamo a Penne. Assunzione di rimpasto ospedale. I primi due anni di Semproni sulla sanità Penne. Sconta mancanza di peso in regione. Alle prossime elezioni metteremo rimedio. Avanti ancora. Siamo alle pagine dell'Aquila. Alimenti venduti per strada. Il Comune dice basta i succhi. Ordinanza per sanzionare le illegalità nel commercio di frutta e verdura. Applicato alla vecchia legge del 1962. Sanzioni previste fino a 30 mila euro. Gli assessori imprudente e piccinini. È necessario tutelare decoro e sicurezza. In basso Parco del Sole. Intoppi risolti. Riapertura vicina. Teatro all'aperto. Giochi per bimbi e restyling per l'area tanto cara agli Aquilani. Poi abbiamo, come abbiamo visto, la tragedia sfiorata ad Arischia dove appunto salta in aria un garage. Forse si stava effettuando il confezionamento di materiale pirotecnico. Tanta paura tra gli inquilini delle case Ater scattate le indagini. L'immobile è stato sequestrato e quattro famiglie sono state evacuate in alloggi provvisori del Comune. E poi in taglio medio lutto nel mondo dell'arte. Morto Augusto Pelliccione. Avanti. Siamo in Marsica con la cherella al Comune di Avezzano. E guerra tra De Angelis e Di Pangrazio. Appello del primo cittadino. Ora basta. C'è chi inquina i pozzi e chi ha realmente a cuore le sorti della città. La replica dell'ex vice sindaco Boccia. Sconcertano i continui atti che vengono decisi da una amministrazione delegittimata. E poi ancora siamo alle pagine di Chieti. Per il crack della Sider Metalli. Belli ha condannato a 11 anni alla sua socia russa. Inflitti 6 anni. Assolta la moglie dell'imprenditore. Spariti 3 milioni di euro sborsati per la compra vendita di Villa Mufarbi. Ieri sentenza del processo per bancarotta fraudolenta. In tre salvati dalla prescrizione. Poi di spalla si schianta con l'auto appena rubata e fugge. Il ladro si dilegua nelle campagne. Ora la polizia gli dà la caccia. Danni ingenti per la Fiat 500. E poi ancora in basso. Abusi sugli allievi. Ex allenatore a giudizio. Resta in carcere. Esplode lo sfogo dei genitori delle vittime. Azienda sanitaria. Assolti il direttore. E la Di Pietro. Ora siamo a Lanciano. ZTL. Si attivano i varchi elettronici. Pannelli luminosi. Regolano l'accesso al centro storico. Occhio alle multe. Traffico limitato. Durante la settimana al Borgo e a Lanciano Vecchia. L'assessore caporale. Ok. Dal Ministero. Vediamo il servizio. A Lanciano a partire dalla mezzanotte di martedì 20 marzo. entrano in funzione i sette pannelli luminosi a messaggio variabile ai varchi delle ZTL dei quartieri storici Lanciano Vecchio e Borgo. Ne danno notizia il sindaco Mario Pupillo e l'assessore alla mobilità Francesca Caporale. I pannelli luminosi saranno in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni. spiega la nota comunale con i messaggi controllo non attivo quando l'ingresso in ZTL è consentito a tutti, controllo attivo quando l'ingresso è consentito esclusivamente agli autorizzati. I pannelli luminosi sono direttamente collegati al software delle telecamere. Fermo restando che a dare sostanza alle prescrizioni relative alla ZTL e la segnaletica verticale posta ai varchi, dicono sindaco e assessore, l'amministrazione comunale vuole rendere più chiara l'informazione alla cittadinanza tramite i pannelli luminosi a messaggio variabile con un impegno di spesa di circa 25 mila euro. L'iter amministrativo che ha subito diversi rallentamenti per questioni burocratiche era stato avviato nel maggio 2017. Con l'installazione e le entrate in funzione dei pannelli luminosi dopo la breve parentesi delle lanterne semaforiche rimosse a seguito di un ricorso e le proteste e ricorsi respinti al TAR dei commercianti di Corso Roma, a Lanciano sembra aprirsi la stagione della stabilità per le zone a traffico limitato. La parola fine sulla questione vogliono scriverla a Palazzo Città dall'amministrazione comunale, infatti giunge un messaggio chiaro. Le ZTL del Comune di Lanciano sono state autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con nota del 12 marzo 2010, ricordano Pupillo e Caporale, diffidando questo l'avviso tramite una nota alla stampa, quanti si adoperano per la diffusione di notizie e informazioni false in merito. Fiala di adrenalina fast jet per la prevenzione. Poi in basso Sasi, esposto di Febbo sui 67 assunti e a Ortona, scritte vandalismi a Parco Ciavocco. Le pagine di Terramo del messaggero concorso per infermieri, gli esclusi ricorrono al TAR, l'accusa alcuni quesiti prevedevano più risposte, tutte ugualmente corrette. 5 candidati sosterranno nuovi test dopo la selezione che si è svolta a Pesaro, le contestazioni sostenute dal sindacato Nursind che adesso esprime la sua soddisfazione. Poi di spalla cresce il randagismo, 245 i cani abbandonati. Il dato riguarda l'anno 2017-2018, l'appello dei volontari, abbiamo bisogno di una mano. Poi ancora, emergenza legata al maltempo, Crognaleto, nuovo allarme per frane e smottamenti. A Giulianova molestie, ho solo aiutato quella donna, il presunto stalker trovato con un arsenale nella sua abitazione, accuse inconsistenti, anzi le ha risolto dei problemi economici. Mai lasciato bigliettini di minacce vicino ai proiettili. L'avvocato Gianluca chiederà la remissione in libertà. Passiamo alla città, il quotidiano della provincia di Teramo e andiamo all'interno, a pagina 4 con la politica in evidenza. Gianguido in campo per liberare Teramo. 70 nomi cittadini firmano l'appello per la discontinuità totale rispetto al modello Teramo. Poi ancora, in basso bracco, le nomine PD di Mariani paralizzano l'ater di Teramo per il consigliere regionale di sinistra italiana. A pagare lo stallo saranno gli inquilini danneggiati dal sisma. E poi ancora, tornando alla candidatura di Gianguido D'Alberto, qui abbiamo visto alcuni scatti ma le nostre telecamere erano presenti. Abbiamo raccolto anche le dichiarazioni del candidato sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Gianguido D'Alberto si candida a sindaco di Teramo. Ex capogruppo del PD nella commissariata amministrazione comunale guidata dal noto modello Teramo di centrodestra, oggi si presenta alla città ufficialmente, sostenuto da un nutrito comitato civico che vanta personalità nel mondo della cultura, del commercio e delle professioni. Non ci sarà candeggina che tenga, chi ha distrutto Teramo negli ultimi anni non troverà posto per nessun accordo con noi, tuonano di concerto i sostenitori di D'Alberto sindaco. E aggiungono, in questa città la priorità non sono le buche stradali, piuttosto capire dove portano le strade da aggiustare. Qual è la novità del vostro progetto? Innanzitutto la richiesta, non un'autocandidatura, ma una richiesta che viene da un comitato promotore, che ringrazio, rispetto al quale mi sono dichiarato disponibile, ovviamente però sulla base di determinati presupposti, perché mi interessa più il progetto, piuttosto che l'essere il candidato sindaco a prescindere, perché non è questa la strategia, credo, vincente, ma non funziona così. È una candidatura che in realtà viene da lontano, perché segue nove anni di attività amministrativa concreta, costante, ininterrotta al Comune di Termo, di opposizione ad un sistema di potere e di governo che ha affossato questa città fino a portarla al commissariamento. Ecco, sulla base di questi presupposti io do la disponibilità alla costruzione di un progetto che abbia una caratteristica, una discontinuità netta, reale, rispetto al sistema di sgoverno, dico io, che è stato messo in campo in questa città. Ma tra liste e candidati sindaci, sfioriamo la decina, il caos politico è senza precedenti. Lacerazioni all'interno del centro-sinistra e del centro-destra fanno immaginare un unico scenario, la vittoria dei 5 Stelle, e lo sa bene anche Gian Guido D'Alberto. Guardi, io dico questo, ho apprezzato molto l'azione del presidente di Sabatino e anche l'umiltà con cui si è approcciato anche dopo le elezioni del 4 marzo a un percorso di dialogo sul tentativo che è quello di mettere insieme forze civiche e politiche. Io non ne faccio una questione tanto di carattere strettamente politico, penso che si debba partire dal civico per mettere insieme, e questa è un'azione che dobbiamo mettere in campo tutti, ma rispetto alla quale io ho dato una disponibilità a lavorare, mettere insieme le forze civiche e politiche che però abbiano una connotazione, che abbiano la forza di confermare l'azione di opposizione ad un, cioè di ripartire dal contrasto rispetto ad un sistema di potere che è stato messo in campo. Vediamo sul fronte del centro-destra, Pagano fa da cerniera tra Forza Italia e gli alleati, il coordinatore regionale azzurro in città per incontrare il centro-destra su progetto comune, liste e candidate. Poi in basso la collega Dorotea Mazzetta che si chiama fuori dalla corsa. C'è in alto il borsino dei candidati stirato dalla città in calo per il centro-sinistra, Renzo Di Sabatino, Stabili, Giovanni Cavallari, Serafino Pulcini, Alberto Covelli, in salita Gian Guido D'Alberto, questi ultimi quattro sul fronte delle liste civiche, poi sul fronte del centro-destra, in calo, Mauro Di Dalmazio, chiaramente Dorotea Mazzetta che si è tirata fuori, in salita Gian Donato Morra, e poi sul fronte dei Cinque Stelle, Stabile, Tiziano Rocchetti. E poi sempre sul fronte del centro-destra, Fratelli d'Italia, sta già con chi vuole innovare, Raimondo Micheli salda pubblicamente l'alleanza tessuta con Dalmati e Di Stefano. A proposito di Di Stefano, in basso leggiamo, Di Stefano presentazione politica di Gianluca Zelli, l'ex assessore proiettato verso la regione con Direzione Italia, sarà referente territoriale. Pagina 8, Teatro Romano, primi passi verso il referendum, incontro chiarificatore con il commissario, garantito l'accesso agli atti e consegnata la bozza del quesito, sarebbe stata la soprintendenza a spingere per una copertura dei reperti archeologici. Le notizie dalla provincia, entro terra, terramano, ostaggio delle frane, difficoltà a Crognaleto, lungo due strade provinciali, smottamenti anche a Casale, San Nicola di Isola, il sopralluogo, ieri mattina c'è stato appunto il sopralluogo da parte di amministrazione separata, arco consumatori, liberi cittadini, 5 stelle, forze dell'ordine, tecnici, regginio civile, sulla frana di Casale che ha deviato il corso di un torrente. Siamo ora in Val Vibrata, dal Badriatica, false assunzioni per la disoccupazione, i 5 vibratiani finiscono nei guai per truffa ai danni dello Stato, titolare di un alimentare avrebbe assunto fittiziamente tre uomini per poi dichiarare la cessazione del lavoro. A Giulianova, il settantenne armato, incastrato dalle telecamere, l'uomo arrestato con la pistola a carica sotto casa della vittima, era sotto controllo da parte dei carabinieri, a far scattare la persecuzione, un rifiuto della donna alle avance del settantenne giuliese. Avanti ancora, siamo ancora a Giulianova, il sindaco ammette il maxidebito con la provincia, ma rassicura antelli e cittadini la prima tranche del pagamento del tefa, già disposta in bilancio, in totale il comune di Giulianova, in debito con l'ente provincia per circa 700 mila euro. e poi a Roseto, acque eccellenti sul 90% della costa, i dati della regione fanno ben sperare in vista della stagione estiva. L'unico neo, appunto l'unico punto in cui i risultati delle analisi sono scarsi, è a 300 metri a sud del fiume Tordino. e siamo a Silvi, dove appunto ci si prepara alle prossime comunali, nasce la prima coalizione del centro-destra, Lega Popolo della Famiglia, Uniti per Silvi e Movimento Idea, assieme per le amministrative, quello che accomuna le forze politiche è determinato principalmente dalla condivisione di contenuti che stanno alla base del programma elettorale, sicurezza, sviluppo sociale e turismo. Qui uno dei leader di questo fronte, è l'ex assessore comunale Fabrizio Valloscura, appunto l'obiettivo è ricompattare il centro-destra Silvarola attorno ad un progetto per giocarsi la vittoria. La pagina dello sport, dove appunto andiamo, aprendo la parentesi di sport proprio sul finire di questa edizione di mattino 6, su Tirol Teramo, Palladini prepara il Blitz, si torna in campo per il turno infrasettimanale, dubbio Tulli per il tecnico, fischio d'inizio alle 16.30, tornano Milillo e Ilari, il difensore e il centrocampista dovrebbero tornare in campo dal primo minuto, il tecnico Biancorosso dice dobbiamo continuare nel percorso positivo, avremmo meritato qualcosa di più. Rapidamente diamo lo sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali, qui siamo sulla gazzetta dello sport, Primavera Italia, cancelliamo l'inverno, è tempo di rinascita, con i nomi nuovi, Cutrone e Chiesa in particolare, dietro di loro Donnarumma, spingono Barella, Ken e Meret, sotto la testata, Juve, tegola per Allegri, Alessandro a rischio reale, poi la bella stagione di Sarri, se fa il bis, sarà scudetto, e poi ancora l'apertura del Corriere dello Sport, non molla niente, con una foto di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, Juve straordinaria, in quattro stagioni ha giocato 208, delle 213 partite possibili, superati in percentuale, Barca, Bayern e Paris Saint-Germain, sotto la testata, la lista di Sarri, ecco quali sono i grandi rinforzi per un futuro da Champions, vediamo i nomi di Chiesa, Verdi, Leno, Torreira, l'ex Pescareste Torreira, Dani Suarez, Grimaldo, e poi tutto sport, che apre così, io ci sarò, con una foto di Giorgio Chiellini, che cercherà di rientrare per il match di Champions con il Real Madrid, poi sotto la testata Toro, serve un progetto per trattenere i quattro assi, Siri Gunculu, Iago Falche e Belotti, torniamo ora sui quotidiani locali, in particolare sul centro, ecco la pagina sul Pescara, io, Bomber di scorta con Vasco nel sangue, l'intervista esclusiva all'attaccante Cappelluzzo, vorrei più spazio, playoff è dura, ma nulla è perduto, con Zeman non ho avuto problemi, mi ha insegnato tanto, ma aveva punti, ma aveva idee diverse, e poi in basso, Epifani offre la cena alla squadra, giocatori e staff a tavola, in un locale di Silvi, contro l'Empoli, può tornare Macin, e poi per la Serie C, Palladini chiede uno sforzo in più agli attaccanti, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, il tutto in vista dell'impegno di questo pomeriggio, a Bolzano contro il Sud Tirol, e poi ancora, siamo al basket, Roseto, la salvezza è alla nostra portata, ora servono i tifosi, il capitano a Casagrande chiama a raccolta la città, domenica contro Mantova, occorrerà il sostegno di tutti, e poi il messaggero, ecco qui, con le vicende societarie, che possono interessare il Pescara, e con il presidente del Francavilla, Candeloro, che è uscito allo scoperto, Pescara, Candeloro è pronto a entrare, il patron del Francavilla, originario di caso, gli ha parlato delle sue intenzioni per il futuro, mentre Epifani cerca la vittoria sul campo, il presidente Sebastiani, è vicino ad una svolta, in taglio medio, tanti ex nelle nazionali, tanti ex del Pescara, Serie B, arriva il VAR, potrebbero essere introdotti già dai playoff e playout di questa stagione, e poi in basso per la Serie D, i tifosi dell'Aquila, dignità per questi colori, ancora, sull'ultima pagina che vediamo, Serie C, Terramo sul Tirol, va a caccia di gloria, e poi, per il calcio a 5, tanti dubbi e infortuni per il Pescara, che affronta la Final 8, domani, l'inizio della competizione a Pesaro, poi ancora, Coppa Italia, il Giulianova impegnato a Pomezia, e per il basket di spalla, leggiamo, gli Sharks al rush finale, Ogide, battere, Mantova, intanto il nigeriano spinge Bergamo contro l'Orzi Nuovi. Finiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il nostro Tg, alle ore 14, alle ore 19, e alle ore 23, mentre Mattino 6 tornerà domani mattina alle ore 8, ringrazio Silvia Gentile in regia, e voi per la cortese attenzione, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.